La guerra ha fermato i tram, ma Pasqualino Miele non può fermarsi. Ha moglie, figli e suocera a carico. Ha inventato la professione del morto. I suoi singolari clienti sanno ormai dove trovarlo per prenderlo in affitto quando corrono pericolo. E' un pezzo di pane bianco, ma l'ha regalata Donna Carmela. Di forcella. Ha una simpatia per me. Oh, senti, questo è caffè-caffè. Mi raccomando, pulisci bene il filtro, me lo porti dopo. Va bene.